Dottor Francesco Venazzi, direttore del ULS 15 di Padova. So che con il CERT vi state attivando per un corso per smettere di fumare, lo trovo una cosa bellissima. Come funziona e chi può accedervi? Prima di tutto le persone si possono iscrivere, fanno questo corso che poi è un corso che si basa su delle lezioni teoriche e poi verranno creati dei gruppi di auto mutuo aiuto dove le persone tra di loro cercheranno ovviamente di portare la loro esperienza e cercheranno di superare questo momento di difficoltà con l'aiuto dei nostri psicologi. All'estero ci sono campagne molto più persuasive rispetto all'Italia. Pensa che bisognerebbe partire da questo? Lo Stato dovrebbe essere o la sanità molto più incidente su far capire i rischi del fumo? Mi pare però che la sanità stia lavorando bene, nel senso che se lei guarda nei pacchetti di sigarette vede il rischio che c'è. Noi stiamo lavorando molto sulla prevenzione e anzi ringrazio il Dipartimento di Prevenzione perché stiamo andando nelle scuole per fare le campagne importanti contro il fumo. Grazie. 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 Grazie.